Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale, oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato da Carocci dal titolo Fra cielo e terra, Gerusalemme e l'Occidente Medievale di Antonio Musarra che abbiamo il grandissimo piacere di avere nostro gradito ospite e al quale come mia abitudine io lascio subito la parola perché ci parli di questo interessante saggio. Prego Antonio, a te. Buongiorno, buongiorno Maurizio, grazie, grazie a tutti gli amici di Italia Medievale, per me è un piacere tornare qui con questo saggio a cui tengo moltissimo, è un saggio dedicato per così dire un po' un luogo del cuore, possiamo dire, un luogo del cuore come Gerusalemme, il cui solo nome è evocativo, lo è per un medievista, lo è per noi medievisti, però lo è per una quantità incredibile di ragioni differenti. Non c'è bisogno che io ricordi qui come Gerusalemme, oltre ad essere una città antichissima, dalla storia complicatissima e per questo affascinante, sia una città estremamente importante per i tre monoteismi abramitici, a partire naturalmente dal mondo ebraico che vede in quella città le proprie radici, radici fortemente territoriali. Per non parlare poi del mondo cristiano, come ben sappiamo, la vicenda di Gesù si svolge negli ultimi anni della sua vita o negli ultimi giorni della sua vita terrena a Gerusalemme e ancora la tomba vuota, quella tomba ubipositus erat, attira pellegrini da tutto il mondo e poi soprattutto anche per il mondo islamico che vede in Gerusalemme oltre che una tappa fondamentale nell'ambito del pellegrinaggio verso la Mecca, il luogo da cui il profeta Muhammad, Maometto, ha compiuto il proprio viaggio, il viaggio notturno. Quindi un luogo fondamentale per le sorti del mondo, potremmo dire in certo qual modo, sovente al centro dell'attenzione, ahimè anche di un'attenzione purtroppo negativa in merito ai conflitti che hanno martorito, e continuano a martoriare quella terra benedetta che naturalmente ci auguriamo tutti possano terminare al più presto. In questo libro ho voluto rappresentare in particolar modo quella che è la Gerusalemme cristiana all'interno del mondo latino cristiano medievale. Quindi è solo un aspetto di questa Gerusalemme. Chiaramente la mia attenzione va anche al mondo ebraico e alla presenza ebraica in Gerusalemme durante il periodo medievale, così come va anche al mondo musulmano che conquista e domina a lungo Gerusalemme, ma la visuale è una visuale prettamente latinocentrica, possiamo dire così. Cioè ho voluto esplorare il modo in cui l'Europa latina cristiana si rapporti a Gerusalemme nell'arco del nostro Medioevo. E ho fatto questo da punti di vista differenti, cioè utilizzando una tripartizione, per così dire, che scandisce anche le parti stesse del volume. Una tripartizione che parte dall'osservazione della sua vicenda terrestre, scandendo le fasi di questa vicenda dal punto di vista politico, diplomatico in particolar modo, ma non solo, anche architettonico. Per guardare poi è un elemento che è molto caro al mondo latino cristiano, che è l'aspetto della Gerusalemme celeste che noi incontriamo già nel dettato biblico e che poi si sviluppa in particolar modo su un sostrato che è prettamente giudaico all'interno del pensiero dei padri della Chiesa, sino poi al Medioevo pieno e tardo, e concludere con quello che forse è l'aspetto maggiormente innovativo, quantomeno a livello concettuale, non certo nella descrizione fattiva, cioè il tema della Gerusalemme traslata. È un tema di cui si discute da qualche decennio, per la verità, ma lo si fa sovente in maniera avulsa e dal contesto della Gerusalemme terrestre, per così dire, e dal concetto stesso della Gerusalemme pensata, immaginata, desiderata, voluta, cioè quello della Gerusalemme celeste. E l'obiettivo di questo libro è stato quello di riunire, unificare, per la prima volta che io sappia almeno questi aspetti, in modo da farli, per così dire, dialogare tra loro. Non si tratta però di un trattato, questo vorrei dirlo subito, ma si tratta più che altro di una guida alla lettura, di una raccolta di temi. Non ho la presunzione di aver messo il punto sul discorso, semmai di aver rispolverato, ripreso, riannodato le fila di discorsi sovente separati, disuniti tra loro. Ed è questo il motivo per cui ho voluto suddividere ulteriormente queste tre grandi macro-aree in capitoli che sono dedicati ad argomenti apparentemente assai diversi tra loro, come cercherò di spiegarvi adesso. La prima parte si occupa, è dedicata prettamente alla Gerusalemme terrestre, alla Gerusalemme terrena, che io intendo nel senso della sua vicenda storica, ricostruibile tramite i documenti, ricostruibile tramite le fonti scritte e quelle materiali che ancora rimangono all'interno del tessuto cittadino e su cui vi è l'attenzione internazionale. Proprio in questi anni Sapienza, l'università a cui afferisco, sta conducendo all'interno del Santo Sepolcro uno scavo archeologico di estrema importanza, i cui risultati saranno presto divulgati, quindi non sono ancora presenti nel libro che più che altro tratteggia lo status questioni, se vogliamo. E però questa attenzione anche verso il dato materiale riverbera in questa prima parte, che ricostruisce dunque la vicenda gerosolimitana, partendo fondamentalmente da quello che per il mondo, l'universo ebraico, è un trauma senza precedenti, ovvero la distruzione del Tempio di Gerusalemme, del secondo Tempio di Gerusalemme, nel 70 d.C. È qualcosa che muta il volto stesso della città, e che ci restituisce una città diversa, potremmo dire, rispetto a quella giudaico-ellenizzata, diciamo così, dei secoli e dei decenni immediatamente precedenti, rispetto alla Gerusalemme di Gesù, ma anche a quella di Erode il Grande, per così dire. Ecco, si parte dunque dal 70, si segue la vicenda gerosolimitana, la presenza della legio decima, fretensis, la trasformazione di Gerusalemme in Elia Capitolina, tra il 132 e il 135, per volere di Adriano, e dunque la trasformazione in una vera e propria città romana, dotata di un campidoglio, con un tempio dedicato a Giove Capitolino, o la Triade Capitolina, un altro simulacro dedicato a Venere. Esattamente, questa è una mia supposizione, che sarà da verificare, appunto, con gli studi recenti, come accade per il modello della Roma imperiale del tempo. Un tempio, dicevo, è un simulacro posizionati molto probabilmente, anche se le fonti sono contraddittorie, là dove Gesù era stato sepolto. Il foro cittadino, il foro di Elia Capitolina, uno dei due fori, per la verità, cittadini, sorge al centro della città, in quella che è la nuova città, che ha recentemente allargato, con Erode Agrippa, le proprie mura verso Settentrione, e proprio in quel luogo prenderà vita, nel IV secolo, la basilica del Santo Sepolcro, la basilica di Costantino. Si segue dunque questa vicenda, da questo momento così fondativo, iniziale, per arrivare a un secondo momento fondativo della città medievale, che è appunto l'introduzione del culto cristiano per opera costantiniana, e da qui se ne seguono le vicende. Si segue la crescita della città, anche dal punto di vista architettonico, sotto Eudocia, sotto Giustiniano, per arrivare a quelle che sono le prime cesure importanti, la conquista persiana del 614, quella musulmana da parte del califo Umar, probabilmente del 638, anche se, come leggerete, le fonti al riguardo sono tarde e non si ha oggi contezza, diciamo così, di una presenza effettiva del califo stesso in Gerusalemme in quel periodo, la lunga dominazione o mai a deprima abbasside poi su Gerusalemme, fino ad arrivare alla conquista crociata, che ha luogo il 15 luglio del 1099, giorno della dispersione degli apostoli, giorno della festa della dispersione degli apostoli, quando coloro che si leggono ideologicamente alla strega dei nuovi apostoli rientrano in città e, ahimè, compiono, come sappiamo, un massacro. E dall'inizio è la vicenda della Gerusalemme crociata, che per la verità dura molto poco, fino al 1187, sino alla reconquista di sala Adin, ma che ha un'impronta, che lascia un'impronta importantissima sulle strutture e sull'assetto stesso. In gran parte la città, la città vecchia che noi osserviamo oggi, le strutture della città vecchia, quella particolare atmosfera che si vive in Gerusalemme tutt'oggi, è debitrice della fase di ricostruzione crociata. Non mi fermo qui, ma questa prima parte prosegue oltre con appunto la dominazione a Iubide, quella mamelucca, arrivandosi fondamentalmente al 1517, quindi poi al passaggio al mondo ottomano, la presenza dei francescani e via dicendo. Quindi è una parte di contestualizzazione fondamentale per inserire, diciamo così, gli altri due discorsi che questo volume prende in considerazione. La seconda grande sezione è dedicata infatti alla Gerusalemme celeste, qui si apre un grosso capitolo. Un grosso capitolo perché? Perché quello che ho potuto constatare è che nonostante il tema sia realmente gigantesco, pochi sono stati gli studi dedicati in maniera esplicita ad esso. Noi sappiamo che questo tema in realtà è presente sin dalla lettura, letteratura giudaica, anche e soprattutto, ecco, nella letteratura giudaica. Quello che ho fatto è quello è l'essere andato con qualche fatica, devo dire, a ricercare questo tema nella sua trasposizione innanzitutto all'interno della letteratura evangelica, cristiana, possiamo dire in generale, procedendo anche oltre strettamente il canone biblico, dove questo tema è ampiamente trattato, con molte sfumature. Ecco, Ticonio, ad esempio, e altri scrittori cristiani dei primi secoli vi dedicano ampio spazio, sovrapponendo talvolta la Gerusalemme celeste e la Gerusalemme terrena. Naturalmente il luogo principale a cui ho dedicato uno spazio specifico è quello di Apocalisse. Gli ultimi due capitoli dell'Apocalisse sono concentrati certamente su questo tema, ma non è l'unico luogo in cui si parla della Gerusalemme di Lastu. Questa è, ad esempio, un'espressione di Paolo, e Paolo nelle sue lettere arricchisce il quadro, e il quadro è arricchito anche dalla lettera agli e così via. Ebbene, si parte dunque da queste riflessioni per cercare di capire come il Medioevo europeo abbia rielaborato il tema della Gerusalemme celeste. Certamente i padri della Chiesa, i primi padri, Agostino in particolare, in cui De Civitate Dei tratteggia questa civiltà permista che vede appunto la città di Dio e la città dell'uomo essere fortemente mescolate assieme è uno dei punti di partenza. Però non è l'unico. Ecco, il pensiero medievale, senza necessariamente doverne fare una storia accurata, cosa che peraltro ancora non esiste, e questo è un invito certamente che io faccio, tratta più volte della Gerusalemme celeste. Ne tratta in rapporto al mondo monastico, come potete immaginare. Penso a un Bernardo di Clairvaux, ne tratta in rapporto al mondo mendicante posteriore, alla trasposizione nella città medievale del modello della Gerusalemme celeste, ne tratta a livello puramente ecclesiastico in rapporto alla Chiesa stessa, specchio della Gerusalemme celeste. Dopodiché il mio interesse è stato attratto da alcuni campi di studio che, per la verità, non mi sono molto familiari. E sempre all'interno di questa sezione dedicata alla Gerusalemme celeste mi sono avventurato, lo posso chiaramente dire, nei meandri della storia dell'architettura, nei meandri della storia dell'arte, con un appendice ulteriore rispetto a quella alla storia della rappresentazione cartografica che invece per studi e per natura mi è più familiare. Devo dire che ho io stesso imparato, a volte scrivendo e studiando si impara, questa è una cosa, è una notizia buona, perché affrontando il tema della Gerusalemme celeste nella sua trasposizione architettonica mi sono accorto di quanto questo tema sia presente, sia presente nella nel concepire stesso lo spazio architettonico e in particolar modo lo spazio liturgico. Questo a partire dall'architettura palacristiana, paleocristiana, ma anche all'interno di quelle che sono le grandi scansioni dell'architettura medievale, quella romanica e quella gotica, che nel rappresentare determinati elementi fanno direttamente riferimento al tema della Gerusalemme celeste. Ma potrei citare anche l'idea che ho già menzionato prima della città ideale, ecco, che viene ripensata poi nel Quattrocento sempre con quel modello, quel bugnato caratteristico quattrocentesco a diamante, così definito, è un riferimento diretto alla città di diamante, la città diamantina, descritta da Apocalisse. La stessa cosa ha luogo con il mondo dell'arte, vengono immediatamente in mente le splendide basiliche carolini, di età carolingia, ad esempio, del romane, in cui la Gerusalemme celeste è sempre rappresentata con la sua coda di agnelli che entrano o escono. Affiancata a un altro tema che per la verità, lo confesso, mi ha stupito, di cui non ero a conoscenza, cioè quello della Betlemme celeste, che non è, almeno apparentemente, biblico, ma che è sempre rappresentato, o meglio, ampiamente rappresentato, quale corrispettivo della Gerusalemme celeste, e poi naturalmente la rappresentazione cartografica, quindi il modo in cui l'idea viene raffigurata in una mappa, una mappa mundi, volendo, o in una mappa TO, che sovente, anzi sempre più spesso e poi in maniera regolare, vede Gerusalemme come il centro del mondo. Ovviamente mappe che non hanno l'ambizione di riprodurre la realtà fisica, ma la realtà ideale questa sì. E questo è stato anche uno studio interessante, oltre che rappresentazioni di Gerusalemme stessa, di cui se ne ha qualche decina di assoluto interesse, generalmente provenienti dalla letteratura di pellegrinaggio, ma non solo, che permettono di comprendere come Gerusalemme si posizioni sul piano ideale. Ecco, la terza parte prende spunto dalle prime due Gerusalemme, potremmo dire così quella terrestre e quella celeste, per cercare di comprendere e di andare più a fondo al tema della Gerusalemme traslata. Di questo tema si è discusso molto, si è discusso per la verità molto di più della traslazione del santo sepolcro in Occidente, che è qualcosa di naturalmente a fine conglobato, ma che non spesso non riguarda l'intera Gerusalemme, il mio concetto di traslazio terrestante è immediatamente più ampio, cioè io faccio per scelta ricadere in questa terza parte del volume elementi che avrebbero potuto benissimo essere considerati nella prima o nella seconda parte come il pellegrinaggio, ma intendo il pellegrinaggio come veicolo, come fattore fondamentale affinché questa traslazio abbia una sorta di concretezza. Si va a vedere e si riporta e si accresce il desiderio di traslare un frammento della sacralità gerosolimitana in suolo europeo. Il tutto nel frammento potrei dire citando un famoso teologo. Si parte dunque dal pellegrinaggio, si descrive il pellegrinaggio e luoghi santi, si riprende quella vicenda, quella lunga teoria di testi che dal quarto secolo, ma con qualche notizia precedente, giunge in questo caso fino al quindicesimo, e si cerca di comprendere cosa maggiormente spinga interessi il pellegrino, il modo in cui la terra santa venga descritta, il modo in cui i luoghi santi vengano descritti, il modo in cui il pellegrinaggio stesso si modifica nel corso del tempo. Chiaramente un affondo è dedicato al santo sepolcro, al quel non est ibi che attira materialmente il pellegrino, ma anche a coloro che si schierano contro il pellegrinaggio medievale. Del santo sepolcro se ne seguono le vicende, ma poi la vicenda del santo sepolcro in occidente e la vicenda delle reliquie giungono a completare il quadro. Le reliquie cristiche rappresentano anch'esse un elemento importante di traslazione della sacralità gerosolimitana in occidente, la riproduzione, spesso topomimetica, ma non necessariamente del santo sepolcro e dei luoghi santi, è un altro elemento fondamentale che giunge a risacralizzare in certo qual modo il suolo europeo, e qui letteralmente si va nelle prime raffigurazioni, rappresentazioni di quarto, quinto, sesto secolo, sino, per così dire, ai sacrimonti quattro cinquecenteschi. È un grande fenomeno su cui vi sono stati studi importanti, vorrei citare qui un volume, i volumi, anzi le opere dedicate a questo tema da Franco Cardini, ad esempio, ma anche da Anna Benvenuti, Pierantonio Piatti, e non voglio dilungarmi, la lista sarebbe lunga, che questo, nel mio testo specifico, però viene riletto alla luce del grande tema della translazio, che io riporto anche un ultimo elemento, abbiamo detto delle reliquie, in particolar modo delle reliquie cristiche, anche questo è un tema estremamente importante, è una vicenda molto appassionante, che riguarda reliquie molto differenti tra loro, dalla spada di Longino, al calice dell'ultima cena, alla stessa Sindone, che vado a trattare con uno sguardo più metodologico, vorrei dire, cioè quale deve essere, mi sono chiesto, l'atteggiamento dello storico di fronte a un elemento come le reliquie, le reliquie cristiche in particolar modo, ma per converso mi viene in mente la stessa situazione delle stigmate di Francesco D'Assisi, ad esempio, quindi è un elemento ritenuto dai contemporanei preternaturale o super naturale. Vorrei soffermarmi brevemente su questo, perché è un punto importante. Sovente negli ultimi tempi, in particolar modo, la tendenza è stata quella del fact-checking, la tendenza è stata quella del cercare di verificare l'autenticità della reliquia piuttosto che il momento esatto della sua fabbricazione e quindi i motivi che hanno portato a questa fabbricazione, ma con quasi un tono censorio nei confronti di chi volesse tutt'oggi ritenere la data reliquia autentica. A mio avviso lo storico non deve occuparsi di tutto ciò. Noi tutto ciò che possiamo dire riguarda l'immanente. Il trascendente può anche esistere e questo attiene al foro della coscienza di ciascuno, ma certamente del trascendente non si occupa lo storico e però escludere la credenza del trascendente da un discorso storico inevitabilmente rischia di non farci comprendere a pieno anche quegli stessi motivi di fabbricazione di cui si diceva prima. Allora il discorso che faccio è un discorso di storia delle mentalità. Non è tanto importante sapere se la reliquia sia autentica o meno, l'importante è capire perché ci credevano, quali sono le motivazioni, quali sono le categorie mentali di quel dato periodo storico in cui si aveva certezza che quello era il calice di Cristo, in cui si aveva certezza che quello era il frammento della vera croce. O la sindone, una delle tante che possiamo citare. Ecco, questo è il dato interessante. A me interessa studiare l'atteggiamento dell'essere umano, donna, uomo, bambino, anziano, non ha importanza, nei confronti del preternaturale, del supernaturale. E non mi interessa conoscere se questo sia autentico oppure no. È un dato che incide sulla realtà, ecco. E incidendo sulla realtà è oggetto di studio da parte dello storico che deve occuparsi unicamente dell'immanente. Questa è la mia posizione. E qui in questo capitolo troverete una brevissima riflessione da questo punto di vista. Ma forse la proposta più interessante è proprio quella che riguarda il capitolo finale, con cui concludo, non rubo altro tempo, riguardante un'altra forma di traslazio che si afferma prepotentemente nel corso del Medioevo, quella che è la traslazio eucaristica, che è strettamente connessa con l'affermarsi di una religione dell'incarnazione, prima, e di una religione della passione anche, poi vorrei dire. Sono elementi che riguardano in particolar modo il momento basso medievale della mia riflessione, ma che sono presenti anche prima, nella Eucaristia, in quella ridefinizione, potremmo dire, che viene fatta nel 1215 al Concilio da Innocenzo III, della transubstanziazione, transubstanziazione, e troviamo l'idea della traslazio massima. E' qui veramente il tutto nel frammento, che si ripropone e viene riproposto ai fedeli dall'autorità papale e poi da quegli ordini mendicanti che guarderanno in particolar modo alla passione, oltre che all'incarnazione, come guida per il proprio cammino. Il pensiero va immediatamente all'ordine francescano, ma non solo, ecco. Ecco, è una forma di traslazio, una forma di trasporto, per così dire, di Gerusalemme su ogni altare, ecco. La salvezza a disposizione per tutti, che a mio avviso è una delle idee guida dell'intero occidente europeo, quantomeno, sino a che con la riforma protestante, la stessa presenza reale di Cristo, in corpo e sangue, anime e divinità, riverrà messa in discussione, aprendo la strada a un mondo differente, diciamo così. Ecco, il Medioevo ha invece questa caratteristica, il tema della traslazio in tutte queste sfaccettature lo attroversa quasi per intero. Allora, per concludere, ecco, è un libro polifonico sicuramente, è un tema polifonico. Il mio, ripeto, non è un trattato né completo, non ha nemmeno l'ambizione di esserlo, è più un invito all'approfondimento, una presa di coscienza dell'esistenza di molteplici rivoli che in maniera interdisciplinare riguardano il medesimo tema che è il ruolo di Gerusalemme per l'Occidente latino, è il modo in cui l'Occidente latino si costruisce guardando a Gerusalemme, a una Gerusalemme terrena, terrestre, a una Gerusalemme celeste, a una Gerusalemme traslata. Il mio auspicio è che questo volume possa più che altro ispirare ricerche, ispirare ricerche che possono andare anche a correggerlo, non c'è nulla di male in tutto ciò, che possano andare ad arricchirlo, che possono andare ad ampliarlo e ad ampliare autonomamente tutta una serie di temi di estrema importanza che, a mio modo di vedere, sono stati da troppo tempo abbandonati dal mondo culturale non solo italiano, vorrei dire, ma la riscoperta dei quali costituisce, a mio avviso, un tassello fondamentale per tornare a comprendere il modo in cui il Medioevo pensava e guardava a se stesso e al mondo. Grazie. Che dire, avrei milioni di domande da farti, ma ruberei tempo e quindi il mio ruolo è quello di ricordare il titolo perché possano correre tutti in libreria ad acquistarlo e il titolo è Fra cielo e terra, Gerusalemme e l'Occidente medievale, pubblicato da pochissimo da Carocci e ovviamente scritto da Antonio Musarra che abbiamo avuto il grandissimo piacere di avere il nostro gradito ospite. A voi tutti ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove troverete insieme a questa anche tutte le videopresentazioni realizzate finora. Grazie mille Antonio, davvero tanto. Grazie. Grazie, grazie a voi e un saluto a tutti. Grazie.